Insomma, non occorre essere amici personali di Draghi per sapere che prima di essere chiamato a Palazzo Chigi la sua ambizione, anche legittima, era quella di fare il Capo dello Stato e immaginiamoci qual era il contesto quando ancora Conte era Presidente del Consiglio. Se si fosse votato allora, Draghi sarebbe stato eletto con quasi un'unanimità del Parlamento. Allora, è possibile immaginare che nel momento in cui Draghi, chiamato a risolvere problemi di grande emergenza è stato convocato da Mattarella, abbia anche alla Draghi fatto capire insomma, questo mi pregiudica poi? Allora, io credo che oggi l'unico discorso che si può fare è chi si metterà definitivamente di traverso per impedire a Draghi di fare il Capo dello Stato perché fino adesso siamo alle chiacchiere, al chiacchiericcio, non sono d'accordo poi c'è un momento, nel momento delle decisioni, nel quale bisogna dire... Chi si metterà di traverso? Allora, partiamo da un po'...